applicazione prima mano resina bicomponente prima i bordi carteggiamo una guerra insomma quando fa la resina devi prendere il carteggio bene se lo tovete tutto quant'era fatta le stesse resini? così? al pennello così quanto è fatto? invece questa qui ti ricordi ad edward angelini? e questa era quella che ci avevamo messo sopra la carta no? si si usano quella della guerra però sempre così vabbè andando guarda quella che c'avevamo là solo che quella che c'avevamo giù che ci abbiamo fatto il magazzino di amazon era non era l'acqua e l'assolvente onestamente riesco questi all'acqua questo è un'acqua e l'assolvente non so non so perché non è un'acqua e l'assolvente non so perché non è un'acqua e l'assolvente non è un'acqua o spessore grigio che è bianco ora vediamo quelle specie dei pacchetti invece di usare usavamo il coloro caucioso si 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 è quello tre queste dovrebbero essere utilizzate anche nelle cose mediche hccp dovrebbe avere una certificazione questa qua si ma viene come uno smartphone abbiamo fatto Antonio il bunker antinucleare del presidente della repubblica a monte libretti quando per là dentro la caserma quando per là c'è l'entrata c'è anche le banche quando fanno vedere quei blocchi grandi tutti in acciaio così poi c'è tutto il corritorio dove fai le docce nel caso capito eccola qua l'applicazione della resina diluito al 40 per cento prima mano non è male che c'è uno sto secchio pulito tutto quello fa paura eh? tutto quello fa paura si sui puliti alla punova sono eccezionali per farsi i lavori bisogna spendersi i soldi perché questi costano tanto tutto quello da... quello da 23 mi pare che costa 18 euro però gli vale 12 questo da 20 costarà un po' di meno ma comunque vale la pena comprarli bisogna tenerseli da conto non fa come fa Maurizio che gli lascia così eh questi c'hanno un disagio brutto con queste cose o come fa Fabrizio questi c'hanno un disagio brutto con questa cosa ora si vede nel video ma ha parlato male di lui ma che sta a dire il sopra chi è sta a dire ma che sta a dire questa non c'è la base che devo dire non c'è la base non c'è la base non c'è la base ma che è la base dici che è troppo lenta fai con la dura eh sei famoso ma che è successo è toccato qualcosa si è uscito qua c'è l'acqua dentro se quelli 10 volte se riempiono d'acqua ma non so come sono fatti dentro se va l'acqua si deposita tra il rullo di plastica vero e proprio i peli se vedi che c'è un vuoto quando lavi si deposita l'acqua lo devi scuote proprio per farlo uscire io sono un fio proprio dentro allora c'è ragione Fabrizio che vuole sempre il compressore sul cantiere non vedete ora che usa anche per il compressore Fabrizio vuole sempre il compressore non esce l'acqua, è uscito qua sotto forse si è bagnato e... eh c'ha sciolto qualcosa che ci stava di più vecchio quindi devi rilaccio prima mano resina bicomponente estrema dell'impera sì, l'impera sì, l'impera